Martina ha scelto il legno. Adesso colleghi i due figli sul legno senza farli toccare. Come vedete la lampadina non si accende perché il flusso delle cariche non produce energia. Bene, in base a questo esperimento cosa possiamo concludere? Possiamo concludere che alcuni oggetti, alcuni materiali sono conduttori. Cioè? Perché fanno accendere la lampadina. Bravissimo. E ci sono altri materiali che non la fanno accendere e li chiamiamo isolanti. Abbiamo concluso. Grazie per la vostra attenzione. Ciao! Dalla scuola Angela Latini abbiamo concluso. Aggiungiamo soltanto che noi siamo molto orgogliosi di questo lavoro. Speriamo che piaccia anche a voi. Arrivederci al prossimo concorso. Ciao! 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 Grazie a tutti.